Dice, l'uomo è nato libero, io lo vedo dappertutto schiavo, quantomeno di se stesso. E poi tu, che mi dici, io sono una persona libera, come mai sei sempre così impegnato e non hai mai tempo? Ma paradossi e contraddizioni della vita. Alla prossima, ciao, un bacione a tutti. Grazie a tutti.